Ok salve buonasera a tutti, seconda seduta della settimana che chiude al di sopra la parità per le principali piazze finanziarie europee, un DAX che chiude a più 0,18%, un IBEX a meno 0,18%, un CAC a più 0,15%, un FUZI Londra che chiude a più 0,21% e un FUZMIB che chiude a più 0,31%. Mentre invece per quanto riguarda le news macroeconomiche che sono state rilasciate oggi, in Gran Bretagna abbiamo il tasso di inflazione che si è attestato nel mese di febbraio al 2,7% su base annua, in calo rispetto al 3% precedente sotto le attese degli analisti che avevano previsto un rallentamento più contenuto a 2,8%. Su base mensile quindi nei confronti di gennaio l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un 0,4% contro un 0,5% atteso dai mercati. Mentre l'indice 0 che misura la fiducia degli investitori tedeschi nel mese di marzo è sceso da 17,8% a 5,1 punti, uno scivolone, una forte caduta. Gli analisti hanno stimato appunto un dato a 13,1 punti. Domani invece mercoledì 21 marzo è la giornata dedicata, diciamo, clou è il dato clou più importante che andrà a catalizzare l'attenzione di buona parte degli investitori e alle 9,19 abbiamo la riunione della Federal Reserve sui tassi di interesse nel quale è previsto un aumento di un quarto di punto percentuale. Però oltre a questi dati domani abbiamo nel Giappone è festa a causa delle guinozze di primavera, festeggiano appunto l'arrivo della primavera, alle 13 anni invece della Gran Bretagna la variazione dei sussidi di disoccupazione, il tasso di disoccupazione di febbraio, alle 15 invece dagli Stati Uniti abbiamo le vendite di abitazioni esistenti di febbraio, poi le scorti di petrolio greggio, la Fed a livello 19, alle 19.30 la conferenza stampa del FOM, il comitato esecutivo della Federal Reserve e poi alle 21 abbiamo, questa volta abbiamo anche un altro meeting e questa volta ci sarà appunto la banca centrale della Nuova Zelanda. Bene, adesso andiamo a vedere che cosa è successo per quanto riguarda la situazione legata prevalentemente all'euro-dollaro. L'euro-dollaro diciamo che c'è stato uno scivolone, se ci spostiamo sul quattro ore vedete abbiamo un crollo del prezzo del cambio della major tra l'euro e il dollaro, questo è dovuto prevalentemente a un forte depreciamento dell'euro dovuto appunto allo scivolone dell'indice Zev tedesco che ha spinto, quindi si è portato, ha condizionato negativamente l'euro e quindi c'è stato in tutte le valute, in tutte le coppie, anche i cross valutari in cui è presente all'euro ci sono stati dei forti movimenti in cui l'euro ha perso terreno. Per esempio nel caso dell'euro-dollaro vedete che abbiamo dove stamattina durante la diretta live avevamo questa fase in cui si era fermato 1.23456, adesso vedete è arrivato nuovamente su questa zona, un livello, un'altra zona dove di demand tra 1.2255 e 1.2270, in questo momento sembra che dopo un forte movimento di bassisti che hanno caratterizzato buona parte della seduta soprattutto durante il pomeriggio sembra che il prezzo si sia a momento fermato, abbiamo questa spike però molto probabilmente potrebbe continuare questa forte movimentazione ribassista. Mentre invece per quanto riguarda l'operazione EuroCAD, quella che abbiamo visto stamattina e ho commentato in diretta, di cui abbiamo quasi fatto un ingresso in diretta su EuroCAD dovuto ad un ABCD, eccolo qua praticamente vedete ABCD, quindi in pratica vedete abbiamo questo ABCD che ho commentato stamattina durante la diretta live, abbiamo un B, anzi un C, questo è A, questo è B, questo è C che è pari all'area 350-68 del ritracciamento calcolato sul lato AB e poi abbiamo D che praticamente non è che altro l'espansione, quindi il calcolo dell'espansione di Fibonacci, che vado a calcolare, ho calcolato da A prendendo i punti B e prendendo i punti C e mi ha dato questo 61,8. Però in prossimità di questo 61,8 poi si è formato vedete una zona di supply che dove il prezzo vedete è letteralmente crollato. Ho posizionato quindi in questo momento stiamo a circa quasi 100 punti di profitto, 95 punti, ho messo un target a 140 punti, quindi ci troviamo a 50 punti dal prezzo dal target e più tardi vado a spostare lo stop loss a break even o al massimo lo vado a spostare praticamente stasera alla chiusura della candela giornaliero lo vado a spostare verso 1,60 e 1,80. Vedete questo è invece la situazione per quanto riguarda in ambito giornaliero. La giornata invece praticamente si è conclusa anche con un altro target su OutCAD, il primo target di cui poi il secondo si è chiuso a break even perché ho spostato lo stop loss a break even, eccolo qua. Un target di circa 130 punti sulle indicazioni di questa di questo shark di bassista, vedete eccolo qua, 130 punti. Se stasera il prezzo riesce a portarsi sotto al supporto, ovvero a chiudere sotto il supporto 100519 inserì un altro pendente sell con un prossimo target verso 099613, quindi prossimo supporto che entra in contrario il prezzo sui 70 punti. Mentre invece abbiamo altre operazioni a mercato come in questo momento USDCAD, operazioni che ho inserito ieri, andiamo a vedere come sta andando, in questo momento stiamo intorno al prezzo di ingresso al mercato, anche qua abbiamo un pattern armonico, eccolo qua, vedete pattern armonico, al momento diciamo abbiamo questo punto di massimo di swing high che si sta mantenendo, vedete quindi piano piano il prezzo sta andando nel verso indicato dal pattern armonico. Se mi sposto sul 4 ore la situazione vedete piano piano si sta spostando anche se diciamo il movimento è abbastanza sull'unione. Ovviamente domani siccome ci sono la fede al reserve alle ore 19, quindi verso le 17, le 18, quindi un'ora prima della fede al reserve andrò a chiudere l'operazione direttamente al mercato per poi se ci sono le necessità di poter poi riaprire in secondo momento durante subito dopo appunto la riunione della fede al reserve. Bene, per questa sera è tutto, grazie mille e ci aggiungiamo quindi domani mattina con la diretta live alle ore 8 e 30. Grazie mille e buonasera da tutti.